Ciao a tutti ragazzi e benvenuti. Questo è il set 60090 uscito nel 2015 facendo parte della serie esplorazione subavia. Il più piccolo dei 6 set usciti, di quel sottotema di quell'anno, ha un costo di soli 6 euro, è costituito da soltanto 42 pezzi e una sola minifigura. Andiamo a vederla più in particolare. Come potete vedere è un esploratore subacqueo, bellissima la stampa presente sul torso, con tutti i comandi, valvole, misuratori di pressione. La stampa è presente, continua il disegno anche sulle gambe e poi è presente anche sul reto. Ve la faccio vedere in un secondo momento. Prima analizziamo tutti i vari accessori presenti sulla questa bellissima minifigura. Ovviamente le pinne di colore rosso, il casco con la maschera, bellissima, con il tubo. E' presente ovviamente, sono presente ovviamente la bombola di ossigeno, senza la quale non potrebbe esplorare i fondali marini. E vi faccio vedere anche la stampa presente sul retro, normale, con la zip appunto della tuta. Ok, questo invece è l'accessorio appunto della bombola con il boccaglio per poter respirare. Ok, andiamo a rimontarla un istante. Ecco qui. E' presente questa sorta di scooter subacolo. Faccio vedere più in dettaglio. Con due motori. Questa è il manubrio appunto di guida. Ecco, così viene sistemata la minifigura. Ok, vi faccio vedere un attimino a me. Ovviamente questi pezzetti chiari non sono presenti nel set, però per farvi dare un'occhiata come appare così poi la... Bellissimo. Sono presenti questa sorta di due maniglie, se vogliamo, meccaniche per poter afferrare oggetti. In questa cosa qua un diamante. L'esplorazione è andata a buon fine. Sono presenti poi anche questi due arpioni, se vogliamo, per difendersi dalle creature presenti sui fondali marini. Una delle quali è questo polivo. E per creare un piccolo set marino è possibile anche utilizzare questa sorta di fogliame che cresce sui fondali. E così è il polivo. Abbastanza grande. Un unico pezzo, quello pure il colore. È il primo che ho, non avevo mai avuto un animale di questo tipo. Due bottoncini a mimare gli occhi e la possibilità di poter afferrare il diamante. Eccolo. Bellissimo, sembra proprio che si muove, insomma, con tutti questi tentacoli. Tentacoli. Ok, sono morbidi, come potete vedere. Invece questa parte qui centrale, diciamo così, la testa, anche se non è una vera propria testa, è rigida. È un pochino più rigida. Bellissimo. Ok ragazzi. Questo è un piccolissimo set. Il video è altrettanto piccolo. Quindi non mi resta che consigliarvi di iscrivervi al canale, lasciare like se il video vi è piaciuto, soprattutto lasciare commenti, fatemi sapere voi cosa ne pensate di questo video. Questo è quello che penso io ovviamente. Fatemi sapere la vostra con commenti. Non mi resta che augurare a tutti buona costruzione e al prossimo video. Ciao ragazzi. Ciao.